Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Salve Regina Mater Misericordiae Vita dulceo, espes nostra salve. A te clamamus, ex un espiniere. A te suspiramus, genetes et flentes, in a lacrima nu vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordies auguros, at nos confertes. Et Jesu, benedictus fructus ventris tui, nobis, pos on exilium, o sedbe, o temes, o bia, o ducis, o ducis, o ducis, o marija. S-konti l-firmat al-Papa, missirna li jinti fisma uveti tqadda sismek tiġi salpnate, i-kondi t-tretint k-fissamek dhaflari. O s-konti l-firmat al-Men, o g-kstra l-firmat al-Nen, i-konti l-firmat al-Men, Gloria lille Messie, lilleben lille Spiritus Amen Aller Virgertal Purgatorio A tioma mu leil mistriht a dey Gav ta 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 dey Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.